Ciao a tutti amici di Popcorn, io sono Serena Maccialatte e oggi vi porto un'altra notizia croccante. Pensavate che il polverone intorno al caso Meredith Karcher fosse completamente chiuso? Che non se ne sarebbe più parlato? Ebbene, vi sbagliavate! A parlarne questa volta è Netflix e lo fa con un trailer dal forte coinvolgimento emotivo per presentare il suo documentario dal titolo Amanda Knox. Se non lo sapete, cosa altamente improbabile, Amanda è la presunta assassina di Meredith. Diretto da Rod Blackhurst e Brian McJean, Amanda Knox sarà disponibile su Netflix dal 30 settembre dopo essere stato presentato al Toronto Film Festival. Parlarne è un po' creepy, ma in realtà io sono abbastanza incuriosita perché mi appassionano i documentari sui misteri, i omicidi, eccetera. Cosa ne pensate? Non ne potete più di questa storia? Secondo voi è colpevole, non è colpevole? Insomma, animate la discussione qua sotto nei commenti e per rimanere sempre aggiornati indovinate un po', visitate www.screeweek.it oppure scaricatevi l'applicazione. Ciao! Ciao!